Come si conviene arrivano una buona e una cattiva notizia per Arezzo. La buona novità è che la regione toscana ha finalmente stanziato i quasi 2 milioni di euro per la riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo, diventato teatro negli ultimi mesi anche di accessi abusivi come più volte denunciato dal consigliere comunale del PD Alessandro Caneschi e della nostra trasmissione SOS Arezzo TV. Finalmente annuncia su Facebook che il vice sindaco Gamurrini dopo un anno e mezzo di lavoro di questa giunta e dell'ingegnere capo del servizio opere pubbliche siamo riusciti a ottenere il finanziamento della regione toscana per portare avanti la riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo, oggi orto creativo, un progetto del quale si iniziò a parlare già nel 2008-2009 sotto la precedente amministrazione ma che purtroppo non vide la luce in quanto a causa della poca lugimiranza e della fittizia con partecipazione del comune alle spese vi fu la revoca del contributo regionale. Oggi sono fiero di annunciare che il contributo è stato recuperato. Alessandro Caneschi, consigliere comunale del PD, dice Le scuse sono finite, assessore Gamurrini. Ora in attesa che venga fatto il bando, che venga espletata la gara, che vengano fatti lavori con una probabile ulteriore attesa di molti mesi, ha intenzione di impedire l'utilizzo improprio dei locali dell'ex mercato ortofrutticolo di via Pisacane, chiodendo tutti gli accessi. Ha intenzione, assessore Lucia Tanti, di prendere in carico con i servizi sociali del comune le persone, bambini compresi, che vivono in quei locali che risultano pericolosi e non idonei anche dal punto di vista igienico-sanitario. Vi interessa la sicurezza e la tranquillità dei cittadini che abitano nella zona? Perché nel frattempo, secondo Caneschi, è iniziato un giro strano. Spacciatori e clienti utilizzano l'aria, appunto, ancora come mercato. La cattiva notizia riguarda invece il famoso stanziamento che Arezzo deve ottenere da Roma per le cosiddette aree degradate. Il vice sindaco Gamurrini paventa il rischio di un rinvio del piano triennale. Purtroppo, dopo tre o quattro annunci da parte di esponenti politici nazionali, non è arrivato nulla. Non ho ricevuto il minimo supporto da parte di alcuno. Probabilmente saremo costretti a far slittare il piano triennale e questo causerà non pochi problemi, ma da parte di questa amministrazione c'è tutta l'intenzione di portare a compimento quanto previsto.